Un nuovo fronte perturbato inserito nel letto delle correnti atalantiche interesserà la campagna a partire dalla giornata di venerdì 8 novembre, determinando un marcato peggioramento delle condizioni meteorologiche con piogge e temporali. La novità rispetto ai precedenti passaggi perturbati sarà la formazione di un minimo di pressione al suolo sulle regioni settentrionali, sottovento alle Alpi, il quale rallenterà il movimento della perturbazione verso sud-est. Pertanto i fenomeni potrebbero assumere carattere di persistenza su tutto il versante tirrenico. Per sabato 9 novembre il cielo sarà molto nuvoloso ovunque, con precipitazioni diffuse e persistenti, localmente di forte intensità sul settore centro-meridionale della regione, nevicate sulle cime dell'Appennino, temperature in diminuzione, venti moderati e mediamente occidentali, mare molto mosso o agitato. Per domenica 10 novembre le condizioni del cielo saranno irregolarmente nuvolose, con possibilità di locali e deboli piovaschi più probabili sul Cilento. Temperature senza variazioni di rilievo, venti moderati occidentali e mare mosso. La tendenza per la prossima settimana, a partire da lunedì, con un probabile nuovo ed intenso peggioramento, con abbondanti precipitazioni che potrebbero interessare buona parte della regione Campania. Per maggiori dettagli e per restare aggiornati sulle condizioni meteo è possibile consultare il sito internet www.meteosette.it.